Allora, ho fatto questo al signor Casuale che poter dire al risultato adesso, quindi ho bisogno di un minuto, perché te lo parlo. Grazie a tutti, non parlo di un altro risultato, se ha scomato la nostra attivazione, io ritrovo la parola, ma non mi facciamo più. Allora, per un tanto, nel risultato, si è per il tuo risultato. Si è giocato, 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 si è giocato. Allora, caro Casuale, intendo semplicemente dire che l'ha risposto, è rinamministrativo politico, è giunta, è giunta, è giunta, è giunta, è giunta, ma a piano marito. Che ha chiarito, allora, dicono che il futuro è nostro vita, ciò che ha per noi il Consiglio Romano, perché, bene, questa città, invece i cittadini alpinesi, è stato giusto. Andiamo poi a definire il finente votazione di questo rapporto, noi abbiamo appena usufruito dell'Argentina, assistenza di una bambina di 5 anni, per sorveggiare i nomi di Guccio e i nomi di Pantolfi, e in particolare, anche un uomo delle disegno, ah grande fame, però si era no non è legata un piano, ma potere anche una città, non da ancora una un'号, vecchia, è un' Esto non è legata un piano 넣o da davvero biglare, Grazie.